Una giornata allo stadio Lungo Bisenzio per il Vescovo di Prato, Monsignor Franco Agostinelli. Il Vescovo ha voluto raggiungere lo stadio a piedi dal Ponte Pietrino attraversando Via Firenze, intrattenendosi lungo il cammino con i tifosi. All'interno dello stadio Lungo Bisenzio il Vescovo è stato ricevuto dal vicepresidente del Prato, Franco Tocci, che ha donato al presule una maglia del Prato. Prima di tutto era da tanto tempo che io desideravo vedere nello stadio per vedere la squadra del Prato. Il fatto è che la domenica per noi è un giorno proibitivo, anche gli altri giorni a dire la verità, ma la domenica in modo particolare. E direi che l'occasione si arricchisce anche per il fatto che stasera c'è Prato-Grosseto, quindi due squadre che per me hanno significato oggi il Prato, ieri il Grosseto. Però oggi io devo dire con tutta onestà che sono qui per dire forza Prato. Il Vescovo ha seguito la partita in tribuna, primo tempo senza emozioni, mentre nell'intervallo Monsignor Agostinelli ha voluto salutare il padre del giocatore del Prato, Giulio Grifoni, vecchio amico da lunga data. Siamo amici da diverso tempo, quando stava ad Arezzo diciamo, sia quando era Vescovo a Grosseto sia quando era Vescovo a Prato. Ora ha maggior ragione, col figliolo che gioca qui ha maggior ragione. Nel secondo tempo il Vescovo ha esultato in occasione della rete bianco-azzurra assegnata da Riccardo Bocalon, mentre si è rammaricato nel finale sulla rete di Torromino che ha gelato il lungo Bisenzio e dato il pareggio a Grosseto. È finita 1-1 un po' di sfortuna per il Prato. Mi dispiace proprio perché ormai pregustavamo la vittoria, proprio all'ultimo, ma sono cose che succedono nel calcio, no? Però non dobbiamo scoraggiarsi perché premesse per un futuro migliore ci sono. I tifosi hanno fatto anche il coro. Hanno fatto anche il coro. Mi dispiace proprio di non avere contribuito perlomeno come a livello scaramantico diciamo per la vittoria, ma comunque. Esperienza positiva? Esperienza positiva, senz'altro.